In Egitto l'intervento delle forze dell'ordine non ha impedito nuove proteste al Cairo nella notte. La tensione è salita nelle ultime 24 ore dopo l'arresto di una cinquantina di persone che protestavano contro la legge che limita le manifestazioni. In polemica contro tali arresti, dieci membri dell'Assemblea Costituente hanno sospeso i lavori.